Buongiorno dal dottor Claudio Saracino e auguri, auguri di un buon Natale 2019 a te, ai tuoi cari, alla tua famiglia. Che sia veramente un Natale all'insegna del vero cambiamento in positivo. E lo dico veramente con tutto il cuore, ok? Perché anch'io ho passato 52 Natali e ti posso garantire che la gente è stanca di non avere ciò che desidera. È stanca di soffrire, è stanca di essere triste, è stanca di sentirsi frustrata e inappagata. Semplicemente puoi togliere di mezzo tutto ciò che ti dà fastidio dalla tv, dai tg paura, dai mass media che seminano lacrime e sangue e sintonizzarti invece su ciò che ti fa ridere, sorridere da una a cento volte al giorno. Trasmissioni che ti potenziano, che ti fanno veramente essere felice, leggere libri, frequentare gente positiva e vedrai che la tua vita cambia. Anche senza utilizzare l'ipnosi, dici, essere vera e professionale come uso dire. Puoi farlo, tutto dipende da te. Anch'io tanti anni fa non pensavo si stesse questa disciplina alternativa e che l'ipnosi vera e professionale, per cui mi affidavo alle discipline tradizionali senza ottenere mai nulla in cambio, anzi non risolvevano i miei problemi esistenziali e non solo, come racconto in molti dei miei video, anche sulla mia fanpage eccetera eccetera. Poi la mia vita è cambiata, per cui spero che anche per te cambi. Non mi dilungo troppo, ti auguro ancora un buon Natale, un felice anno nuovo. Scrivimi, non ti preoccupare, non ti fare paranoio, io ti risponderò gratis, gratis sul mondo dell'ipnosi, sul tuo problema, gratis, a prescindere dai miei interessi, perché ti invito sempre ad andare presso un professionista dell'ipnosi per il professionale della tua zona e che ti trovi a Parigi, a Los Angeles, a Milano, a Roma, a Firenze, in qualsiasi parte, però utilizza questa grande e potente arte e scienza, riconosciuta come medicina alternativa dell'Associazione Medica Mondiale nel 1958 e dalla Chiesa nel 1847. Ha cambiato la mia vita, ha cambiato la vita di alcuni di miei cari, di centinaia e centinaia di persone che ho aiutato in Italia e all'estero. Auguri ancora e alla prossima dal dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio. Auguri ancora e alla prossima.